Al dato positivo della giornata, ossia il numero di dimessi, che sono 7.839, con una crescita di 1.501 persone guarite rispetto a ieri, si contrappone l'aumento tornato consistente dei contagiati e dei decessi. Oggi noi siamo arrivati a 34.889 positivi, con una crescita di 2.443. Sulle persone che sono ricoverate, siamo a 10.681, con una crescita di 655, anche qui ieri eravamo cresciuti della metà, 315. Le persone in terapia intensiva, 1.263, quindi più 27. Ahimè anche i decessi crescono in maniera molto significativa, siamo arrivati a 4.861, più 387, quindi un numero importante. La provincia di Bergamo è una provincia che oggi arriva a 7.458, con una crescita di 386, che mentre il dato complessivo vede una crescita molto significativa rispetto a ieri, il dato di Bergamo è di fatto in linea con quello di ieri. Lo stesso in qualche modo il dato di Brescia, siamo a 6.931, che è più 334, ieri era 300, Cremona 3.370, più 214, questo è un dato invece molto più alto rispetto a quello di ieri. Lodi, 1.968, più 84, anche se la zona di Codogno continua a essere, poi lo vedrete, 10 casi, quindi siamo basati a 0.010. Ormai lì possiamo dire che si è assolutamente fermata la diffusione del virus. Mantua, 1.250, più 74, Pavia 1.685, più 107, il dato molto forte è quello di Milano, dove siamo a 6.922, più 848, quindi è un dato che è più del doppio di quello di ieri.